buongiorno primi siamo primi per morti al mondo per coronavirus quindi non lo so cioè qualcosa è andato storto qualcosa è andato storto non si sa bene non è forse il momento di fare bilanci però il problema che non è che finita qua nel senso che adesso stiamo andando avanti a 400 e passa morti al giorno e nel caso non ve ne siate accorti sta scendendo al sud dove 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 penso che la sanità non sia esattamente messa in modo altrettanto mobilitabile diciamo così come come lombardia e veneto quindi parlare di economia è sempre difficile perché parlando di economia nel mentre che si portano via i morti quindi prendiamola così però è indubbio che nel mentre e forse ancora più spregievole il fatto che nel mentre ci siano centinaia di morti per le strade noi abbiamo tanta gente che approfittava per fare delle sporche manovre economiche e certo sì sì attenzione ha molto ragione ci sono anche i vivi perché uno perché si occupa di economia si occupa di economia perché dall'altra parte ci sono industrie aziende che ancora adesso non hanno avuto l'ok per differire le tasse doveva arrivare il decreto doveva arrivare il decreto a minuti perché era stato vi ricordate quella norma che spostava di quattro giorni il pagamento delle imposte beh sì doveva arrivare oggi pomeriggio abbiamo detto al presidente repubblica io non lo so fino adesso non ancora visto fatto sta che in ogni caso abbiamo un paese che se non si prendono delle decisioni super drastiche in termini di emissione di denaro rischia di non avere il sostentamento minimo per andare avanti però questo è un problema contingente per cui l'economia alla fine è importante ma è mio dovere evidenziare cosa è stata la manovra che a spese e approfittando di una situazione con centinaia di morti stava venendo portata via perché perché c'era una manovra che partiva da molto lontano quindi che non c'entrava nulla con l'epidemia non c'entrava nulla con i morti era quella che puntava a farci riformare il mess famoso in modo tale che noi diventassimo schiavi per direttissima quindi costruirlo in modo tale che diventasse una gabbia inestricabile per noi dove in qualsiasi motivo in qualsiasi momento e sappiamo benissimo che lo forse spero che l'abbiate capito che questo momento si può creare in qualsiasi momento basta che la banca centrale lo voglia noi avremmo dovuto chiedere buongiorno alberto noi avremmo avremmo dovuto no sorrido vedendo alberto bagnai perché non siamo ci stiamo vedendo di meno diciamo così ma siamo mai sentiti così tanto e io comunque volevo dire che molto banalmente questo piano che prevedeva la riforma del mess ormai lo conoscete bene insomma era quello che abbiamo intercettato ai tempi quello per cui conte fece il famoso tradimento quindi nonostante il famoso non firmiamo un cazzo lui andò ad approvarlo no e così via ed era un piano ai danni dell'italia congegnato da parte dell'europa insomma in modo molto semplice ecco quello è saltato per primo perché ovviamente richiedeva tempo vi ricordate no bisognava dare l'approvazione bisognava firmarlo dopodiché doveva essere ratificato no era perfetto il piano se non comprati chi si dovevano comprare e purtroppo non per loro non sono arrivati in tempo perché la situazione invece è esplosa senza che loro ne potessero prendere la potessero finalizzare era previsto vi ricordate la firma per il dicembre dell'anno scorso allora fino a dicembre dell'anno scorso la resistenza l'abbiamo fatta noi dopo gli è saltato per mano per la questione gli è saltato in mano per la questione per la questione del del virus allora a quel punto questi ripeto con i morti per le strade sono hanno cercato di fare il piano b il piano b era quello facciamo assolutamente chiedere all'italia il finanziamento col mess attuale quello che c'è già no e si erano mossi tutti io veramente adesso facciamo i tranquilli ma prima o poi li prendo uno per uno li prendo uno per uno e voglio chiedere a tutti guardandoli nel panne degli occhi con che coraggio per esempio la signora irene tinagli presidente della commissione economia dell'unione europea di monti perché alla fine guarda caso la famiglia è sempre quella avesse avuto il coraggio in una situazione come questa invece di invocare l'intervento della banca centrale europea mettere assieme il piano per far funzionare il mess senza condizionalità sì senza condizionalità sapendo benissimo che nei trattati la condizionalità è scritta quindi la signora tinagli che con tutto il coro di quelli che applaudivano a questo grandissimo progetto è perché sapete benissimo cos'è la loro forza la loro forza economica la loro forza di diffusione del pensiero l'uffington post la signora angela mauro che aveva fatto tutto un panegirico dicendo che grande idea che grande idea usare il mess per poi per poi sbloccare ma scusate ma come vi ho sempre detto ma se normalmente è una banca centrale che compra il debito per che motivo io devo metterci di mezzo un mess che non c'è da nessun'altra parte per che motivo invece guarda caso c'erano già tutti gli articoli no che dicevano bene correggiamo il tiro spostiamoci su questo modo di di gestire le cose zingaretti tutti gli altri è il mess bisogna assolutamente portare avanti il mess bisogna mettere le catene all'italia bene anche questo è saltato non per noi è c'è attenzione quando io scrivo su quando io scrivo su internet come avevo chiesto io non è che ho tirato sul telefono chiamato la banca centrale europea è semplicemente noi abbiamo fatto pressione come avete visto e far pressione in certi casi con dei toni un po forti come magari posso fare io vedete che magari serve perché nelle banche centrali ci guardano e sanno che prima o poi la cosa finisce e prima o poi qualcuno può essere chiamato a rispondere delle proprie iniziative e rispondere delle proprie iniziative fatte contro il proprio paese in un momento in cui ci sono i camion che portano via i cadaveri io penso che sia un po più difficile di certa gente che ha chiamato a rispondere delle proprie iniziative un ministro che ha lasciato facendo il suo dovere per quattro giorni una nave di clandestini ad aspettare fuori da un porto invece in questo caso c'era gente che approfittando del fatto che ci fossero i morti per le strade correva la faceva una corsa contro il tempo per far sì che il paese venisse venduto alla troica ok però non è andata bene non è andata bene perché questo simpatico progetto si è scontrato con una telefonata che probabilmente è arrivata dalla Francia la Francia dove fino a ieri c'era monsieur Macron all'opera con la compagna tutti in giro perché meditavano di approfittare del fatto che noi incautamente avessimo subito propagandato in giro per tutto il mondo la nostra situazione invece di fare tesoro del di quello che stavamo di quello che che stava succedendo abbiamo pensavano anche lì di dire va bene superiamo l'Italia non c'è problema allora noi andiamo avanti belli tranquilli intanto ci prendiamo i loro contratti probabilmente il pensierino che hanno fatto è quello però la Francia intanto anche lì il tempo molto veloce con cui si diffonde questa questa cosa ha gestito per ha fatto ha fatto il miracolo e a un certo punto anche la Francia si è trovata in seria difficoltà e allora mentre noi forse anche per la divisione del governo non di attenzione io non voglio dire la lega a me non mi interessa prendere meriti personalmente dire la lega fatto la lega bloccato la cosa è stata trasversale avete visto ci sono stati componenti del movimento 5 stelle c'è stato componenti di leo e così questo tipo che hanno fatto capire che non era aria no di proseguire con con il messo e ciò nonostante conte e gualtieri stavano andando avanti nonostante la maggioranza del parlamento fosse chiaramente contro perché il loro progetto era quello di andare avanti perché lo capisco non lo so se lo capivano cosa stavano facendo ma di sicuro c'era qualcuno a cui loro probabilmente rispondono più che agli italiani che spingeva per fare questo dicendo stai tranquillo vai tranquillo firma qui poi vedrai che arriveranno i soldi e tu potrai far vedere che sei quello che porta i soldi tu potrai vedere che sei il figo probabilmente ha ragionato così probabilmente beh mi spiace comunque non è andata così o stava saltando un fondo stava saltando una banca o semplicemente anche loro si hanno reso conto che le cose non andavano più da nessuna parte allora a un certo punto deve essere arrivato una telefonata madame lagarde e ha fatto una cosa banalissima ha detto va bene garantiamo noi compriamo 750 miliardi di titoli di stato e se serve ne compriamo di più lo spread da 300 è andato è andato giù di 120 punti in un giorno e tanti saluti a tutte le balle tanti saluti a tutte le balle che ci hanno raccontato fino adesso vale a dire che bisognava fare austerità perché se no saliva lo spread che bisognava fare la fornero perché se no saliva lo spread che bisognava tagliare la sanità perché se no saliva lo spread che bisognava far star zitto borghi perché se no se no saliva lo spread che bisognava che un parlamentare della repubblica che cercava di fare il suo mestiere dovesse stare zitto perché se no altrimenti saliva lo spread che il deficit non si poteva fare perché se no saliva lo spread voi capite bene quante bugie quante responsabilità che andranno accertate per queste menzogne per cui adesso va bene la virgolette vittoria e capite che bene che parlare di vittoria con i morti per le strade è un po fastidioso però questo è quindi da una parte abbiamo evitato l'intervento del mess da sempre da una parte abbiamo svelato tutte le balle clamorose a sì certo federico certo perché poi c'era lo spread che non saliva per la mia immagine di di home page di twitter no perché c'avevo la lira quante 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 cazzate quanto fango quanta quanta mamma mia quanta pazienza quanto quanto mi piacerebbe dire sofferenza perché mamma non è vero c'è la sofferenza non non c'entra niente diciamo che c'è voluto c'è voluta pazienza e forza d'animo ecco per sentire tutta la pressione assurda che c'era stata a fronte di quelli che ti volevano zittire perché sennò altrimenti saliva lo spread fatto sta che in ogni caso ormai quello è a posto ma attenzione non finisce mica qui non finisce mica qui non finisce mica qui perché già la germania sta cominciando a dire che non va non vorremmo mica che finanzi gli stati tutto quel partito quel fortissimo partito dell'austerità quello che mirava a prendere e costringere l'italia nelle mani della troica è vivo e vegeto ha preso una botta ma ricominceranno paro come prima però come scrivevo oggi attenzione perché con il whatever it takes già in teoria bastava quello per capirlo ma è come con gli illusionisti la prima volta che vedi il numero di magia non lo capisce o quantomeno lo capiscono in pochi noi abbiamo cercato di spiegarvelo in in tante in tante occasioni ma la gente non lo capiva era draghi erano i suoi superpoteri era lui era la sua credibilità era era la scelta delle parole no è così questo tipo e quindi la prima volta che uno vede il numero di magia applaude e basta la seconda volta che si vede lo stesso numero probabilmente invece capiscono in tanti per cui vedrete che ritorneranno allora sarà più difficile per loro argomentare ma teniamoci assolutamente pronti teniamoci assolutamente pronti perché arriveranno con le solite cazzate di prima cioè non si può perché di qua perché di là bisognerà tagliare di qui tagliare di là qui invece capite bene che quando sarà finita questa cosa non bisognerà tagliare proprio niente bisognerà ricostruire ricostruire un paese ma proprio girandosi le maniche per certi versi bene perché tutto dovrà essere spazzato via in termini di regole era un sistema marcio era un sistema burocratico era un sistema con mille regole mille tasse e così via dovrà essere tutto molto più semplice come probabilmente sarà più semplice la vita di molti di noi dopo un po di tempo passato a beni di sostentamento ma tenete presente che la vita con i beni di sostentamento poi non regge più la struttura della nostra economia per cui vediamo anche di venire coi piedi per terra e di capire come ricostruire la nostra economia post questa situazione vedete le pause si possono si possono fare guardate vedete qua il lago a questo a quest'ora era sempre pieno di barche c'erano gli aliscafi che portavano i lavoratori in alto lago non arrivavano giù fino a como che 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 sta lì pian piano adesso qua è tutto silenzio pian piano è tutto fermo bellissimo ma bloccato e prima o poi bisogna ritornare a produrre bisogna ritornare a fare e in questo momento noi rischiamo di avere delle aziende che muoiono domani per tasse se non vengono bloccate queste assurde di queste assurde idee di di non mettere in circolo tutta la la liquidità che serve due spiegazioni poi poi vi lascio su cosa bene è successo e perché è importante la questione che è stata fatta con la banca centrale allora la banca centrale non finanzia direttamente lo stato quindi non sono soldi che arrivano allo stato la banca centrale compra i titoli sul mercato perché rimane ancora questo assurdo dogma altra cosa che poi su cui bisognerà sistemare e si capita il chi regola del 33 del debito adesso ne parlo bene l'assurdo dogma che la banca centrale non può finanziare direttamente gli stati allora cosa fanno comprano i titoli sul mercato ma dato che i titoli sono sempre quelli comprando i titoli sul mercato ne fissano il prezzo per cui significa che lo stato può tranquillamente mettere in vendita dei btp questi troveranno compratori probabilmente delle banche le quali a loro volta li rivenderanno al li rivenderanno alla banca centrale europea quindi la banca si terrà una specie di commissione per fare per fare questo giro e dall'altra parte però lo stato avrà i soldi creati con un click no dalla banca centrale europea dentro nelle proprie casse con questi soldi potrà prendere pagare se gli fanno fare deficit perché ovviamente tutti i soldi che vengono utilizzati dallo stato adesso per pagare le casse integrazioni per dare i soldi sperabilmente di più della miseria che in questo momento è prevista dal decreto cura italia lì così questo tipo è ovvio che sono deficit e al deficit si sommerà delle entrate che erano previste che non verranno anche se non abbonate perché molto banalmente se la gente non consuma io posso anche tranquillamente dire che non abolisco l'iva ma se la gente non compra niente l'iva non dà gettito no per cui è abbastanza evidente io posso dire che non abolisco le accise no in una situazione come questa ma non vale niente dire sciocco non hai abolito l'accise è inutile abolire le accise perché tanto la macchina non la usi e quindi in ogni caso non fa il pieno di benzina e lo stato non incassa il gettito per cui in una maniera altra ci saranno ammanchi di cassa da parte dello stato e spese in più da parte dello stato che devono essere aumentate tutta questa cosa deve essere fatta a deficit è un problema no non è un problema quantomeno sul breve termine finché stiamo parlando di due tre mesi perché non è un problema perché i titoli che alla fine sono in pancia la banca centrale europea quindi supponiamo che la banca centrale europea compri tutti questi 750 miliardi di titoli e quindi questi 750 miliardi di titoli si trovano nelle casse degli stati dell'unione europea che vengono spesi no emessi emessi in circolo bene ma alla fine ricordiamolo ancora una volta se la banca centrale europea questi titoli che ha acquistato si brucia non succede nulla quindi non è che stiamo andando verso l'aumento verticale del debito tale per cui che cosa succederà cioè se alla fine l'unico compratore in questo momento del debito pubblico è la banca centrale europea che se le porta dentro in cassa la banca centrale europea a sua volta lei non deve soldi a nessuno quindi non è che se brucia gli attivi che ha vale a dire i titoli di debito e oddio non riesce a pagare ma non riesce a pagare cose con gli euro che crea lei quindi non è che si si crea un problema contabile che aumenta il debito così questo tipo si sta stampando moneta detto detto in termini in termini pratici allora cos'è il rischio dell'enorme stampa di moneta rischio l'inflazione ma se stai vivendo di in questo momento stai vivendo di un'economia di sussistenza che inflazione vuoi che abbia cioè aumentano i prezzi delle bmw perché la gente si trova ad avere troppi soldi adesso se gli stati uniti danno mille euro mille dollari a ogni a ogni cittadino no beh allora stiamo arrivando un punto dove sono tutti ricchi escono fuori per strada a comprarsi chissà che cosa no comprano dei beni alimentari che si mangiano quindi non sta succedendo proprio proprio nulla e quindi molto difficile che si avrà l'inflazione cioè vale a dire con la gente che i prezzi dei frigoriferi o delle cose che andranno chissà dove il problema è chi li fabbrica questi frigoriferi perché se l'unico che in questo momento a zero casi mentre noi superiamo e andiamo prima in classifica nei casi di morti mondiali se gli unici che li fabbricano sono i cinesi e beh voi capite che a un certo punto quando il vostro frigorifero di casa si rompe e voi non potete uscire a non potete uscire neanche a fare a fare il giro col cane però potete schiacciare un bottone su qualche sito di commerce e vengono a portarvi a casa al frigorifero il frigorifero è fatto in cina voi i soldi utilizzati per che che avete che avete in cassa e sperabilmente lo stato ve ne dovrebbe darvene di più però capite che prendono la strada la strada della cina quindi questo poi andrà risistemato è andrà risistemato con una serie di dazi così la diciamo è una serie dazi che tutto il contrario di quello che sta facendo il nostro caro amico di maio perché di maio a quanto pare leggo è non lo so non lo frequento ma sta facendo accordi come se non ci fosse domani con con la cina bene lo so io guardo sempre in là a me piacerebbe vedere che in un futuro saranno tutelate le le nostre aziende che quando si ricomincerà a lavorare dopo questo disastro ci sarà lavoro e denaro per gli italiani e che in questo momento in questa fase nessuno perda la possibilità di avere sostentamento nessuno quindi abbiamo capito che la scarsità del denaro è una balla sappiamo che il limite della scarsità del denaro sta nell'inflazione vediamo che in questo momento di rischi di inflazione diciamo che nella lista delle cose delle urgenze del terrore che attanaglia in questo momento il nostro paese l'inflazione non è esattamente la prima ecco fra i rischi e i pericoli no che la nostra popolazione corre per cui vediamo di capire che cosa state facendo purtroppo purtroppo va detto al governo c'è chi c'è e da una parte lasciamo pure da parte il tentativo di tradimento quello legato legato al mess ma anche le competenze sono quelle che sono non so perché ogni tanto sono delle esplosioni là in fondo se vanno a cacciare vanno a cacciare con dei calibri piuttosto grossi ecco mettiamola così ma no le cave non mi sembra che sia un punto in cui c'è la cava se devo essere sincero comunque vedremo perché si vede forse il fumo qua ecco ancora no no di là non è la svizzera comunque vabbè insomma ragazzi finché non arrivano qua proiettili vuol dire che va bene sarà non a cava anche comunque in una maniera o nell'altra il punto è abbastanza semplice vale a dire cercare di capire quanti quanti soldi mettere in circolo curare il sostentamento della gente evitare che le imprese chiudano e la competenza di chi ci sta guidando al momento non è il massimo alberto bagnai che è sempre lì che ci segue alla capogruppo di ieri ha detto una cosa molto banale questo decreto fa schifo è valido quindi non è che io se dico che fa schifo e fermo un attimo i lavori per leggerlo bene o per cercare di migliorarlo allora significa che non do neanche lo blocco non do neanche i 600 euro perché già sono cominciato a partire così come zittiscono l'opposizione così come zittivano me adesso cercano di zittire il fatto il dissenso deve andare tutto bene ma fa schifo allora a quel punto ha detto una cosa molto banale non si fa la procedura velocissima dove praticamente si timbra e basta devono esaminarlo le commissioni questo ha chiesto perché è evidente che se si parla di sanità non può essere solo la commissione bilancia ad esaminarla cioè io con tutto il permesso non ho idea di cosa sono le questioni della sanità o non ho idea di cosa sono le questioni di lavoro o di tantissime altre cose quindi significa che ci vogliono anche se formalmente lo gestisce la commissione bilancio le altre commissioni devono poterlo esaminare questo solo ha chiesto quindi cerchiamo di migliorarlo cerchiamo di sistemarlo anche se probabilmente l'urgenza sarebbe più che migliorare questo questo decreto che in ogni caso avrebbe quei saldi aumentare in modo drastico il denaro che ci vuole e provare andare avanti per per ancora ancora un pochettino nel frattempo state a casa non fate cazzate bisogna bloccarlo attenzione al sud pensate sempre che non arriva dalle vostre parti perché fa caldo perché c'è il sole così via guardate cosa sta succedendo a bergamo guardate cosa sta succedendo a brescia guardate cosa sta succedendo a piacenza bene questi nostri cittadini questi caduti sono la nostra terza guerra mondiale sono i caduti per cui bisognerà fare ovviamente poi un discorso dopo sulle sulle ragioni perché o i numeri sono sbagliati da tutte le parti allora nel qual caso bisogna andare a prendere chi ha sbagliato i numeri oppure qualcosa sta succedendo se i cinesi hanno occultato tutti i numeri perché mi sembra strano che le cose se i cinesi hanno occultato tutti i numeri se altri stanno occultando i numeri se noi li diamo diversi dagli altri non lo so so per certo che i nostri ospedali stanno esplodendo sono al limite che i dottori stanno cominciando arrivare a scarseggiare e anzi c'è bisogno veramente volete fare una cosa una cosa eroica nella andate se ci sono dei medici se ci sono degli infermieri la frontiera è a bergamo la frontiera a brescia andate lì perché la situazione è disastrosa e vedete che lavoro per voi ci sarà e state attenti ripeto l'unica cosa che vi posso raccomandare al sud bloccatelo state chiusi in casa state siate prudenti ma prudenti davvero dovete cominciare a essere a entrare nell'ordine d'idea del del fatto che questa cosa vada bloccata in qualche maniera perché temo che se dovesse procedere o dovesse progredire in modo analogo poi quello che noi pensiamo che sia un momento di flesso un momento di rallentamento un momento di fine in Lombardia non vorrei che fosse un momento di inizio in altre regioni quindi state attenti nel frattempo la battaglia del messa è vinta io continuo a informarvi di quello che succede stiamo facendo dei lavori seri di gestione e di presentazione di emendamenti per migliorarlo questo decreto arrivano pacchi, garavaglia, bitonci voi immaginate che è il loro pane ogni secondo tirano fuori emendamenti per cercare di aiutare le partite IVA per aiutare gli impiegati per aiutare chi in questo momento è senza lavoro per aiutare i negozianti per i disoccupati e similari in modo tale da migliorare il decreto ma una cosa è migliorare il decreto una cosa è cambiarlo radicalmente dal punto di vista dei saldi quindi vi saluto io vi continuo a informare noi continuiamo a sfornare emendamenti e a cercare di guardare i commi e vedere dove sono le fregature teniamo d'occhio tutto e mi raccomando siate orgogliosi di quello che abbiamo fatto perché ripeto quello che stava succedendo in una situazione così drammatica era molto grave arrivederci